Il regionale IAC Stamattina abbiamo avuto la sessione congiunta con l'associazione salernitana dei portatori di elettrostimolatori cardiaci E' stata come al solito un'esperienza qualificante Quando ci sono i portatori, cioè i pazienti, i convegni diventano più interessanti Gli argomenti sono veri, le domande sono sentite Anche l'associazione italiana di erettmologia e cardiostimolazione questa mattina ha guadagnato qualcosa da questo simposio congiunto Noi speriamo che in futuro possiamo realizzarne altri E che l'associazione di pazienti, in particolare di portatori di device cardiaci, si moltiplichino in Italia